Durante i recenti interventi di ripulitura delle grotte a finte rovine della villa floridiana nel quartiere Vomero a Napoli, sono avvenute importanti scoperte archeologiche. I lavori delle superfici murarie, finalizzati alla preparazione dell'area per il rilievo mediante laser scanner, hanno portato alla luce due distinte fasi edilizie, la prima risalente al I secolo d.C., con il rinvenimento di una serie di pilastri con blocchetti tufacei, alla base di uno di questi è stato trovato un lacerto di rivestimento in cocciopesto e poi pilastri realizzati con blocchetti di tufo, nonché rivestimento in pietra lavica, in tonaco e in finta opera reticolata. Nella fase conclusiva sono state individuate porzioni del rivestimento ottocentesco in pietra lavica. Le attività hanno anche restituito frammenti di materiale ceramico. Queste scoperti arricchiscono la conoscenza del quartiere in età romana, ha dichiarato il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, e offrono nuovi spunti di ricerca per ricostruire la storia della città e le forme di occupazione della fascia collinare occidentale di Napoli.